Un pasto caldo a chi non ce la fa direttamente al ristorante. È l'iniziativa Un Tavolo per Tre che la Fondazione Caritas Pesaro ha deciso di promuovere in occasione della giornata mondiale del povero che si terrà domenica 18 novembre. Una richiesta rivolta direttamente ai ristoratori della città per mettere a disposizione un tavolo a pranzo nel proprio locale in quel giorno. Per tre persone in stato di bisogno. Hanno risposto cinque ristoranti e tre famiglie che domenica ospiteranno a pranzo tre indigenti. Sapete che il Papa ha lanciato un messaggio proprio per promuovere questa iniziativa e nel dare senso a questa giornata il Papa ha parlato di ascolto, ha parlato di condivisione, ha parlato di un cammino diciamo ecco fatto insieme. E a metà del suo discorso a un certo punto ha detto come segno tangibile diciamo ecco di fare un cammino insieme dividete, condividete un pasto. E quindi ci è venuta quest'idea di diciamo sollecitare la città, quindi di invitare la città a rispondere a questo messaggio del Papa accogliendo degli indigenti, dei poveri nei loro ristoranti. E contestualmente chiaramente anche noi come Caritas abbiamo detto beh è bello in questa giornata che la mensa diocesana dei poveri sia aperta e gli operatori, i volontari della Caritas assieme ai nostri poveri condividono un pasto insieme. Insomma più che a sfamare 21 bocche in più, 15 nei ristoranti e 6 nelle famiglie che ospiteranno i poveri direttamente in casa, la Caritas punta a scuotere le coscienze, a utilizzare la giornata mondiale del povero come un vero momento di riflessione e cambiamento per combattere l'emarginazione, la disperazione, la sconfitta di chi non riesce neppure a procurarsi un pasto. È un'iniziativa che coinvolge principalmente i ristoratori. Abbiamo avuto 5 adesioni di ristoratori della zona, da Zorigo alla Giara, Arnold, La Farcita e Farina, che per quel giorno hanno messo a disposizione un tavolo per tre persone e noi qui dalla Caritas accompagneremo queste persone appunto a vivere questo momento in condivisione e in un pranzo proprio presso i ristoranti. Quindi insomma oltre a sfamare le persone si vuole anche lanciare un messaggio, insomma fare un po' uscire la povertà dalle marginazioni. Direi che è la cosa più importante, i poveri mangiano tutti i giorni e quindi oggi è una giornata particolare che ci ricorda la voglia di andare incontro a queste persone che in questo momento forse hanno più bisogno di noi. I numeri delle adesioni non vanno presi in maniera matematica, quello che conta è lo spirito della partecipazione. Ci succede da sempre di intercettare persone che sono in difficoltà, che hanno meno possibilità e quindi quando vengono con buona educazione a chiederci noi abbiamo sempre risposto. Non volevamo neanche apparire perché queste cose si fanno senza neanche troppa pubblicità. Questa era l'idea del posto e poi la Caritas ci ha chiesto un impegno e noi abbiamo subito dato la nostra disponibilità senza neanche pensarci.